Ciao a tutti, come esprimere il proprio potere decisionale? In questo video voglio spiegarti come puoi esprimere il tuo potere decisionale. Esprimere il proprio potere decisionale è veramente importante, è fondamentale nella nostra vita. Se noi vogliamo essere felici, dobbiamo imparare veramente a esprimere il nostro potere decisionale, essere liberi di fare le nostre scelte è fondamentale, perché il potere decisionale coincide con l'espressione del libero arbitro. Questo è un punto fondamentale da tenere presente. Se vogliamo raggiungere dei risultati importanti nella nostra vita, dobbiamo imparare veramente a esprimere al massimo, al meglio, il nostro potere decisionale, il nostro libero arbitro. Se non siamo in grado di esprimere il potere decisionale, se non siamo in grado di esprimere il libero arbitro, passeremo una vita poco interessante, una vita tutto sommato sfigata fondamentalmente. Ecco quindi che è veramente, questo è veramente fondamentale, è veramente importante, imparare ad esprimere al pieno il proprio potere decisionale. Come possiamo fare a fare questo? Allora, la cosa fondamentale che puoi fare è diventare padrone fondamentalmente della tua vita, diventare l'artefice della tua vita. Devi capire se c'è qualche vincolo, qualche ostacolo, che ti sta impedendo di esprimere al meglio quello che è il tuo potere decisionale, quello che è la tua libertà. Allora, quello che devi fare, che ti suggerisco di fare, iniziare a riflettere su di te. Inizia a dare una risposta a questa domanda. Esprimi ciò che pensi e senti. Manifesti quelle che sono le tue esigenze rispetto agli altri o assecondi sempre le esigenze degli altri. Mantieni ferma la tua posizione, anche se eventualmente altre persone non sono d'accordo. Difendi i tuoi diritti. Ecco che se la risposta a queste domande è affermativa, beh, significa che stai andando per il verso giusto, significa che di fatto stai facendo la cosa giusta ed è un fatto positivo. Se invece per qualche motivo non riesci a fare questo, beh, significa che sei impantanato invece in situazioni poco positive. sei bloccato in situazioni che ti costringono a fare delle cose che magari non sono il massimo per te. Quindi devi imparare a cambiare fondamentalmente e rafforzare. come migliorare se stessi da questo punto di vista per esprimere sempre al meglio il proprio potere decisionale. Beh, il primo punto è quello che devi imparare a concentrarti sulla tua esperienza, sulla tua esperienza e radicarti fortemente nel tuo corpo. pensa a te stesso, sii centrato su te stesso, visualizza come secondo punto un confine tra te e gli altri, cioè distingui il tuo spazio personale e devi alzare uno scudo che ti protegga e ti difenda dagli altri. Terzo punto, difendi l'autonomia della tua mente, richiama alla memoria degli episodi in cui ti sei sentito forte, determinato. Vividi proprio queste emozioni e ripetiti, io decido per me, io decido per me, le mie idee sono legge, io decido per me, le mie idee sono legge. Ecco, quindi esprimi sempre i tuoi valori, non cedere per nessun motivo e per nessuna ragione ai tuoi valori. Creati degli alleati interiori, diciamo, dentro di noi abbiamo dei meccanismi di valorizzazione di noi stessi. È importante dare valore a se stessi, è importante dare valore alla propria vita, perché in questo modo riusciremo ad ottenere dei risultati strabilianti. Ecco, quindi questo è veramente un punto a cui tengo molto perché è veramente importante, è veramente fondamentale. Non dobbiamo permettere a nessuno di bypassare quelle che sono le nostre, come dire, le nostre difese. Dobbiamo mantenere sì l'empatia, l'empatia con gli altri è importante, cioè empatia significa sintonizzarsi con gli altri, comprendere le esigenze, ma non diventare dipendenti dagli altri. Quindi empatia non significa necessariamente approvare o aderire alle, diciamo, alle idee degli altri. L'empatia è molto utile perché comprendo le idee degli altri, ma nonostante le comprenda posso tranquillamente disentire. E' importante coltivare l'empatia, ma è anche altrettanto importante coltivarsi, immergersi a fondo nella propria interiorità, coltivare la consapevolezza del sé. In particolare, diciamo, anche le esperienze più profonde che ci sono dentro di noi e che dobbiamo imparare costantemente a sviluppare, quindi a percepire quello che è il punto di vista altrui, ma non per questo dover, diciamo, lasciarsi andare al giudizio degli altri oppure accettare, diciamo, quello che gli altri dicono. Assolutamente no, noi dobbiamo rimanere centrati su noi stessi e dare lustro, dare forza a quelle che sono le nostre idee, esprimere le nostre idee, non fermarci alla superficie, ma andare a fondo delle situazioni. Quindi empatia non significa, significa che riconosco la sofferenza, che riconosco l'emozione degli altri, ma non devo approvare per forza, non devo necessariamente, diciamo, essere allineato con quelle che sono i codici etici degli altri. Devo sviluppare anzi il mio codice etico, mio personale, che non deve essere neanche il codice etico dei genitori, d'altra situazione, deve essere il mio codice etico personale, frutto della mia libertà, frutto delle mie decisioni, frutto del mio libero arbitrio. Questo è quello che dovremmo imparare a fare se vogliamo vivere bene, stare bene e avere una vita serena. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle mie live, abbonamento base per le lezioni mirate, abbonamento top per le lezioni mirate e videoregistrazione in seminario del vivo, abbonamento master consulting, ancora in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.